Ciao amici di Blink182 Italia E' passato anche il secondo giorno di caccia all'opus E l'armale non si è ancora trovato O meglio Qualcuno l'ha trovato ma non Non abbiamo avuto modo di contattarlo Non è un nostro fan Dicono che su Instagram ci sono delle foto di gente che l'ha trovata Ma nessuno di voi se no già l'avete detto Vero? Sono il vostro admin Riccardo che vi parla E ho bisogno che voi ci mettiate di più Ce la mettiate tutta per trovarlo Le notizie di oggi Dicono che l'animale Opus E' rimasto un eco masco Le notizie ancora di questa mattina però E dicono che sia stato agriante Provincio di Como Pare che Sky abbia pubblicato una foto Un Instagram Di un anello con L'Octopus E sia stata Fatta appunto agriante Quindi Per oggi è lì Secondo me questa sera va a mangiare un altro ristorante tipico Oppure si sposta Non lo so Però sempre in zona Lago di Como Magari Magari ragazzi E' andato a Cantù A comprare un mobile Ragazzi dovete pensarle tutte Perché Dovete trovarlo Trovarlo Scovarlo E dircelo Io conto su di voi I want you Ciao